In questo video parliamo di contatti dalle etichette discografiche Siamo entrati in contatto ovviamente con un sacco di musicisti che hanno ricevuto proposte di contratto da etichette discografiche e ci hanno chiesto più di una volta parere su questi contratti Che cosa avevano in comune tutti questi musicisti, non tutti questi contratti ma tutti questi musicisti Il fatto che si sentivano quasi obbligati a dire di sì per non perdere un'occasione Perché comunque un'etichetta discografica è comunque un'etichetta discografica Stai attento, stai molto attento perché ci sono etichette ed etichette Ci sono comunque, siccome c'è un business dietro quello della musica che è molto grande Ovviamente sappiamo che è per lo più in mano a pochi, non è questo il video per parlare di queste cose Ma ad ogni modo sappiamo che c'è un grande business e ovviamente dove c'è business arrivano anche sciacalli e avvoltoi E una cosa che devi considerare sempre è il fatto che non perché ti è stato proposto un contratto Ti devi sentire in obbligo di dire sì per non perdere questa opportunità Perché 9 volte su 10 non è per niente un'opportunità O perlomeno non lo è per te, lo è per loro Quindi diciamo che non è un video questo contro le etichette discografiche E assolutamente ci sono delle etichette che lavorano molto bene E ci sono delle etichette che lavorano molto male o che addirittura non dovrebbero nemmeno lavorare Quindi che cosa puoi fare tu per capire un attimo chi hai di fronte, chi ti sta contattando Come abbiamo detto appunto non sentirti subito è un obbligo di dire di sì Noi abbiamo sentito di quelle cose terribili come ad esempio proposte non scritte E all'atto della richiesta di avere una proposta scritta l'etichetta che dice Ma perché vuoi il contratto scritto non ti fidi di me? No, non mi fido di te, non ci conosciamo Ti piace la mia musica ma io non so nient'altro di te E ad ogni modo ci sono un po' di cose a cui dobbiamo fare caso Perché appunto ci sono etichette che stanno nascendo come funghi perché ci vedono del business E tu non devi essere l'oggetto del business Tu devi essere un partner per un'etichetta o devi essere comunque un qualcosa di importante Attraverso cui l'etichetta può riuscire a guadagnare e può riuscire a darti indietro a te Quello che ti meriti per la tua musica Verifica sempre chi è questa etichetta Se è una società, se ha una partita IVA Se è qualcuno che esiste dal punto di vista professionale, giuridico Se è qualcuno che esiste Quindi vai a verificare chi è questa etichetta La società fa capo a chi Chi è che c'è dentro Che tipo di società è Dov'è la partita IVA Gli artisti che hanno già promosso Alcuni si fanno grandi con nomi altisonanti Abbiamo prodotto questo, abbiamo prodotto l'altro Sì, hai prodotto questo e hai prodotto l'altro Qual è stato il tuo ruolo all'interno di questo prodotto? Perché può benissimo essere Capita molto spesso Che sono artisti, ma anche giovani Che hanno molte capacità economiche E quindi hanno dato a questa etichetta La responsabilità di fargli la promozione Quindi hanno speso un sacco di soldi Dati all'etichetta Che gli ha fatto promozione Magari anche male E quindi questi artisti Sono riusciti a raggiungere un po' Perché nessuno ti propone A meno che non vieni contatto all'Universal A Sony Nessuno ti propone Guarda io ho lavorato con questo artista Ed è un artista che ha fatto Milioni su milioni di ascolti Quindi ti propongono dei nomi Di qualcuno che non sa effettivamente Che tipo di rapporto ha avuto con l'etichetta Se lo sai vai a parlare direttamente con lui Contattalo I modi ci sono E digli Senti ma questa etichetta Ha fatto anche a me una proposta Come ti sei trovato? E vai a capire che tipo di attività ha fatto Quindi cerca di capire Chi hai di fronte Con che artisti hanno operato E Google può essere Un ottimo amico per questo Quindi vai a cercare su Google Vai a cercare sui social Anche chi è questa etichetta Se è un'etichetta che Non si caga nessuno Scusa il termine Ma se è un'etichetta che non ha un canale YouTube O che ha un canale YouTube Messo lì in qualche modo Con poche visualizzazioni Se è un'etichetta che Non ha un seguito su Instagram Se è un'etichetta che Non ha un seguito su Facebook Se è un'etichetta che Non ha delle playlist su Spotify Se non è un'etichetta Che ha una presenza ben definita E misurabile E concreta Che tu puoi verificare Direttamente da te Non perdere neanche il tempo A leggere il contratto Perché una parte fondamentale Del lavoro Che dovrà fare l'etichetta per te Sarà il lavoro di promozione E se queste persone Non ti sanno dare Tu non riesci a capire E che effettivamente Loro hanno delle capacità Di promozione adeguate Perché non riesci a vedere Che gli artisti Che loro producono E che loro promuovono Non riesci a vedere Che su questi canali C'è evidenza Su tutti i loro social C'è evidenza Di questa alta interazione Di questa alta visualizzazione Di questi streaming Insomma Se non riesci ad avere evidenza Che effettivamente Riescono a far fare Dei bei numeri Agli artisti Che loro producono Lascia perdere Non andare a leggere Nemmeno neanche Tutto il contratto Perché appunto Come dicevamo La promozione È importante E se tu vai a vedere I loro social Sui loro social Non sono forti Difficilmente riusciranno A far crescere i tuoi O perlomeno Sarà gente Che preferisce Investire sugli altri Nel momento in cui Gli danno i soldi Piuttosto che Investire sui loro canali E poi Quello che dovresti fare È cercare di capire Effettivamente Il tipo di promozione Che ti fanno Ce ne sono moltissime Che ti propongono Di Di farti la promozione Ma un'etichetta Non è solo promozione Un'etichetta È molto alto L'etichetta È anche promozione Se qualcuno Ti sta Offrendo la promozione Dice Hai un brano inedito Ti produciamo Noi Produciamo Ti promuoviamo Noi E Facciamo un po' Lo split Facciamo Il 40% Noi Il 60% Te E Allora Due cose da considerare Quando succede questo Uno Non è l'attività Dell'etichetta Questa Questa è un'attività Dell'agenzia di promozione Se qualcuno Ti dà Ti dice Ti scrive Anche che Tu gli darai Il budget promozionale E loro faranno L'attività di promozione Quindi li stai pagando Per la tua promozione Tu Loro non stanno facendo Il lavoro di etichetta E tu non dovresti darli a loro Perché quello che tu Gli stai pagando È la promozione A questo punto Vai da un'agenzia promozionale Vai da un'agenzia promozionale Per lo meno Ti tiene il 100% I diritti Perché devo andare Da un'etichetta Che mi deve dare Una serie di servizi Ma mi dà solo quelle di promozione E in più si tiene delle royalties Quindi si tiene delle revenues Che devono venire Comunque a me Grazie alla mia musica Vado ad un'agenzia di promozione Quindi Lascia perdere Le etichette Che ti propongono Servizi di promozione Che tu devi pagare Non è un'etichetta E per favore Non pensare Al Tanto È meglio Qualcosa È meglio di niente Perché se mi muovo da solo Raggiungo niente Questo non è vero Non hai bisogno di un'etichetta Per farti promozione Hai bisogno di un'etichetta Per impostare Una tua crescita Stilistica Per impostare La tua carriera E per avere qualcuno Che investa su di te Che è tutt'altra cosa Rispetto a Ho bisogno di un'etichetta Perché a loro Mi fanno promozione No Vai da un'agenzia di promozione Non venire da Clays Ma vai da chiunque altro Non importa Ma vai da un'agenzia di promozione Ti tieni tutti i diritti Di quello che è il tuo lavoro Quindi Se qualcuno ti fa una proposta Di questo tipo Lascia perdere Lascia perdere Altra cosa Infine Che ti possiamo consigliare Nel momento in cui ricevi un contratto Molto molto probabilmente Se hai un contratto serio Ci saranno dei termini Che tu non sei in grado di capire Perché È il classico legalese O per comunque Ci sono delle questioni di diritti Diritti di edizione Allora o sei uno E te lo consiglio questo Che sa esattamente Tutti i diritti Che spettano Che ti spettano Per la tua musica E se lavori Veramente O comunque il tuo obiettivo Quello principale Di lavorare nella musica È qualcosa che dovresti sapere Ma se non lo sai Troverai Moltissimi termini Moltissimi Clause Moltissime voci Che parlano di questioni di diritti O comunque di questioni Che tu non sei in grado di comprendere Quindi Fatti aiutare Da un legale Quindi Nel momento in cui Tu hai passato Tutta la tua fase di analisi Per cui Allora Ho visto che è una società Ho visto che è una partita IVA Ho visto che promuovono degli artisti Che comunque hanno avuto un seguito Ho visto che Sui loro social Sono molto forti Se la promozione la sanno fare Ok A questo punto andiamo a vedere cosa c'è dentro il contratto Cosa mi stanno proponendo Ma ci capisco poco Quindi Qui è importante Farti aiutare da un legale Quanto può costare Farti aiutare da un legale A vedere insieme un contratto Noi collaboriamo con un legale E ti costa una stupidaggine 30 euro 50 euro Per vedere comunque Insieme Questo contratto Quando tu firmi Con una casa discografica Un'etichetta discografica Difficilmente sono contratti Da tre mesi È molto più probabile Che siano contratti Da tre anni Che prevedono anche Dei vincoli Poi Ne abbiamo visti alcuni Con dei vincoli Assurdi Con dei vincoli Con diritto di prelazione Per i tre anni successivi Quindi se dopo tre anni Che stai con me Qualcuno Comunque Arriva qualcuno Che vuole la tua musica Prima me lo chiedi a me E se io ti do il permesso Tu vai con quello là Altrimenti tu non vai da nessuna parte Per una cosa del genere O investi centomila euro Sulla mia attività O altrimenti Dobbiamo parlarne un attimo Ad ogni modo Si vedono cose veramente assurde Quindi Ci sono delle cose Che tu Non conosci Perché tu pensi a fare musica Giustamente Non è il tuo ambito Affidati a un legale Ti costa niente E ti eviti Con una spesa Minima Di 30-50 euro Come dicevamo Di avere delle beghe Che ti potrebbero portare Via soldi Per anni O peggio ancora Che potrebbero portarti via La proprietà Del brano Che tu hai scritto Perché succede anche questo Quindi Quando ti arriva un contratto Non s'antagli addosso Non passare subito All'entusiasmo di Ho un contratto Con una casa discografica Devo firmare Tu non devi firmare Tu devi valutare Tu devi cogliere L'occasione migliore Devi cogliere L'opportunità Nel momento in cui Questa è un'opportunità Quindi Stai molto attento Nel caso che Tutto ti quadra Fatti aiutare Da legale Non ti sentirei In obbligo Perché comunque Non tutti i contratti Sono quello che Tu vorresti Non ti sentirei Non ti sentirei Non ti sentirei